Ciao a tutti ragazzi per i capoli e benvenuti in questo nuovo video Italia-Lituania 5-0 Regà, 5-0 senza immobile, insignia oppure chiesa Siamo riusciti oggi con Raspadori e Kin Due giocatori che non giocano da una vita in nazionale Siamo riusciti a distruggere 5-0 la Lituania E poi un gol che sembra più o meno un cross di Giovanni Lorenzo Ma oltre a questo 5 pappine fatte dalla Lituania Adesso ovviamente siamo ancora primi nel Gione La Svizzera ha pareggiato 0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord Punteggio abbastanza buono Adesso ovviamente abbiamo la Nations League Ma ovviamente in questo istante siamo primi nel Gione Cosa abbastanza buona perché questo mondiale come ho detto è fondamentale arrivarci Perché già soffro ancora per il 2018 Quindi arrivare a questo mondiale è fondamentale Regà, ma stasera veramente gli abbiamo rotto la faccia Raspadori a fuoco praticamente Raspadori a fuoco Due gol eppure Moise Ken Eppure un gol che veramente sembrava un cross Scrivetelo nei commenti Era un cross oppure era un tiro Perché a me sembrava un cross Ma ovviamente 5-0 regà 5-0 Abbiamo distrutto la Lituania Che veramente grande squadra non è Però ovviamente vincere è sempre importante Vincere è sempre importante Adesso finalmente ritorno alla Serie A Con Napoli-Juve Ma quella è un'altra partita È anche un video diverso Comunque oggi sono molto contento Secondo me al mondiale ci andiamo Dimentichiamo il 2018 E secondo me forse possiamo vincerlo Comunque ciao Forse da sempre Forse io e sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciao regà Ciao